Il primo letterario è un impegno per il Rotary che lo organizza unicamente al Comune di Carovigno e con il pazzesigino della regione Puglia perché ci viene i ragazzi, il Rotary segue con amore i ragazzi nel lungo cammino della loro adolescenza, per noi leggere la lettura è fondamentale per i ragazzi quindi abbiamo pensato bene di guidarvi piano piano a scoprire come un libro può davvero spigionare la vostra fantasia prima di entrare nel vivo voglio comunque iniziare con i saluti di dito dal Presidente del Rotary Club di Ostuni, Rosa Marino Mendozallustio al Comune di Carovigno che è presente tramite l'assessore Nico Pepe al professore catalano, agli autori, a tutte le autorità che sono presenti i dirigenti scolastici, i soci del Rotary Club, gli amici dirigenti scolastici, i professori ma soprattutto voi ragazzi che siete davvero i più cadonisti di questo premio so che durante tutti questi mesi avete studiato, il premio letterario ha comportato per voi un grande studio cioè leggere i tre libri che poi sono stati, no, che si verano trasera premiati ha comportato un impegno non soltanto personale ma dell'intera scuola e quest'anno più delle altre abbiamo ruotato l'impegno che dobbiamo ringraziare in primis la Biblioteca Comunale Comune attraverso anche il suo direttore Quindi passo la parola con grande piacere al nostro socio e amico assessore alla cultura del Comune di Carovigno, Nicola Pepe Grazie Nando Un ringraziamento soprattutto a tutti questi splendidi ragazzi che con la loro presenza non solo ci onorano ma danno il vero senso a questo concorso, a questo premio letterario proprio l'altro giorno in occasione di un incontro, di un'emittente televisiva qui locale si faceva proprio riferimento alla peculiarità di questo premio letterario che quest'anno ci vede coinvolti in questa nona edizione quindi innanzitutto l'augurio di incontrarci nuovamente qui l'anno prossimo per festeggiare i primi dieci anni che dirò forse una banalità ma sicuramente non sono pochi è una vita così lunga, anzi quella che può sembrare un periodo breve per l'immaginario collettivo, in realtà per un premio letterario un ringraziamento a tutti e anche ai finalisti ovviamente che spero non so se è la prima volta per voi, se toccate questi liti, queste sacre sfonde avrebbe detto forse qualcun altro nel mio posto molto molto tempo fa tuttavia io mi auguro che la vostra permanenza qui sia di vostro gradimento e che sia anche la possibilità, l'occasione per conoscere magari qualcosa di nuovo che nella vostra vita non vi era capitato fino a questo momento di incrociare grazie 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 grazie